Temu è la moda di questi mesi, impazzisce su TikTok e non solo, e su questo sito è possibile acquistare un sacco di prodotti a prezzi irrisori, cioè pochi euro. Vediamo cosa c'è dietro Temu, se è sicuro, se ne vale la pena e soprattutto come diavolo fa a vendere prodotti a prezzi così bassi. Lasciate un mi piace, iscrivetevi, trovate anche i miei social, quindi si va. Questo video è sponsorizzato da SCDK, uno store online che vende chiavi di accesso per molti software, tra cui Office e Windows, nelle sue varie versioni. I prezzi sono molto convenienti, infatti è possibile avere, ad esempio, Windows 10 ha praticamente una quindicina di euro e vi ricordo che è possibile effettuare l'aggiornamento a Windows 11 senza dover acquistare un'altra licenza. Ma ovviamente potete anche acquistare direttamente Windows 11 con uno sconto del 25% se utilizzate il mio codice FE25. Cliccate su Windows 11 e poi inserite il codice sconto nell'apposito spazio, cliccate su Apply e troverete il prezzo scontato. L'attivazione è molto semplice, basta recarsi nelle impostazioni di Windows alla sezione attivazione, inserire il codice e in pochi secondi la chiave si attiverà. Grazie a SCDK per aver sponsorizzato questo video, date un'occhiata al link qui sotto in descrizione. Beh, Temu è uno shop online, no come Amazon, ma differentemente da Amazon offre prodotti estremamente economici. Diciamo che è più simile agli Express, dato che offre anche molti prodotti tecnologici, cosa che invece magari troviamo solamente in parte su Wish o addirittura che non troviamo quasi su Shane. Ecco, tutti questi shop sono visti semplicemente come negozi online pieni di cinesate. Per farla breve, e lo sono. Ma considerando il costo veramente risorio di molti prodotti, cioè considerate che per tantissimi si fatica a arrivare alle 10 euro, ecco, e per la maggior parte non superano la trentina, ecco allora anche quelli che molti di noi considerano delle cinesate, no? In termini dispregiativo intendo dire, potrebbe assumere ugualmente un buon valore, dopo tutto. Chi si nasconde dietro Temu? Ecco, i dati ci dicono che Temu è posseduta da PDD Holdings, che è un gruppo multinazionale attivo nel campo del commercio già da diversi anni. Il gruppo ha anche un altro sito, Pinduoduo, fa ridere, lo so, che si occupava sempre di commercio, ma nel campo dell'agricoltura, proprio non c'entrava nulla. L'azienda ha una sede in Irlanda, originariamente l'aveva in Shanghai, chiaramente in Cina, e sembra avere anche un headquarter negli Stati Uniti, nello specifico a Boston. In ogni caso, a parte queste posizioni in Europa, negli Stati Uniti, ecco, possiamo considerare Temu un'azienda cinese, dalla A alla Z. Temu funziona precisamente come tutti gli altri shop. Potete accedere direttamente da temu.com o scaricare l'applicazione disponibile per iPhone, per Android. Quando l'avete fatto, è scaricata, o quando siete sul sito, insomma, create un account e iniziate ad acquistare. Niente di più difficile o semplice di così. Le spedizioni sono gratuite sulla maggior parte dei prodotti, ma se volete ricevere il prodotto entro una settimana massima circa di tempo, allora potrete decidere di pagare la spedizione, praticamente la spedizione express, al costo di 6,90 euro, almeno nel momento in cui sto registrando questo video. Esiste una politica di reso? Certo, dove la spedizione del primo prodotto che renderete è gratuita, ma vi dico già se i prodotti sono poco, 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 poco costosi, è possibile anche che vi ridanno i soldi e non avete necessità di spedire indietro il prodotto. Un po' come succede con Amazon, meno su quest'ultima cosa, no? Vi verrà inviato un'etichetta, porterete il pacco alle poste, otterrete il rimborso e avrete tre mesi di tempo per ripensarci. Quindi per rispedire indietro un prodotto che, così, magari non è all'altezza delle vostre aspettative. In pratica Temu cosa ha fatto? Ha copiato, sotto questo punto di vista, le procedure ormai consolidate da tempo e amate da tutti noi che utilizziamo Amazon, qualcosa che ha senso, dopo tutto, considerando che ormai la gente è abituata in questa maniera. Ovviamente, per correttezza di informazioni, non posso dare un giudizio definitivo in questo momento, ma per sempre in realtà. Cioè, ci sarà sicuramente chi ha avuto delle brutte esperienze, ma come chi ne ha avute delle ottime. Io ho comprato, ecco nel mio caso posso dire che mediamente le esperienze sono state positive. Tempi di disposizione e di spedizione, non è che arrivano il giorno dopo, però è accettabile. Soprattutto rispetto a Wish o Aliexpress sono molto più accettabili, quindi i prodotti insomma arrivano molto prima. Vende un po' di tutto, dall'abbigliamento alla casa, accessori, cucina, bellezza personale e anche chiaramente elettronica. Per questa parte dell'elettronica più che altro sono accessori e piccole elettroniche portatili, sono prodotti super costosi, super grandi, super tecnologici. Nonostante esistano sulla piattaforma dei prodotti di brand riconosciuti, ad esempio i prodotti Lenovo, mentre la maggior parte degli altri prodotti sono i cosiddetti prodotti no brand o con nomi inventati. Strani. In altre parole, sono i classici prodotti del mercato parallelo cinese, quindi prodotti che magari escono dalle stesse fabbriche dei brand più blasonati, più riconosciuti, ma di cui probabilmente non c'è lo stesso livello di qualità e di controllo. Quando troverete dei prodotti di brand ufficiali, quelli riconosciuti, ad esempio come quelli di Lenovo, troverete un pallino blu e la scritta che si tratta di prodotti ufficiali, un po' come la spunta blu sui social, ecco, ma sono veramente pochi. Veniamo alla parte che io considero più interessante del video, anche della mia ricerca che ho fatto per creare questo video, quella parte in cui spiego qualcosa che probabilmente non tutti sanno. Il motivo per cui Temu è in grado di permettere la vendita a prezzi così contenuti è legata unicamente a un modello di business molto specifico. Questo modello di business si chiama NGM, che è una sigla che banalmente sta per Next Generation Manufacturing, cioè è un processo che ha appunto l'obiettivo di ottimizzare, ma in maniera proprio maniacale, cioè ogni singolo step della catena di approvvigionamento e vendita, quindi dalla produzione alla vendita finale a noi. Applicando questo processo, che appunto è ottimizzato in ogni singolo step dalla produzione alla vendita, è possibile arrivare a risparmiare fino al 50% di tutte le spese. No, risparmio che poi viene riflesso, viene portato direttamente sul costo del prodotto. Ma come appunto si ottiene questo risparmio? Prima di tutto l'azienda conduce e condivide con le altre aziende che vogliono vendere tramite Temu delle analisi molto 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 accurate su quello che noi vogliamo, quindi sulla necessità degli acquirenti. In pratica, dando tutte queste informazioni, permette di evitare di fare, come dire, costose indagini di mercato, fare campagne di marketing, volte a capire cosa e come vendere un prodotto. Temu praticamente dice, cara azienda che fai vestiti, ad esempio, gli utenti vogliono comprare questa tipologia di vestiti. Quindi non disperderti in chissà cosa, ma concentrati sulla produzione e vendita di questa tipologia. Se vogliamo amplificare questa informazione, vengono passati dei dati statistici anche su quanto vendere e quando vendere, cioè la quantità di merce che un'azienda può potenzialmente vendere in un determinato periodo di tempo e in un determinato momento dell'anno. Sempre per fare un esempio del settore del appoggiamento, mi viene più facile per questo video questo parallelismo, vengono fornite informazioni su taglie, colori e potenzialmente un volume di affari. In questo modo un'azienda che produce può razionalizzare la produzione, evitare di produrre vestiti, taglie, magari che non venderà o che venderà poco, di conseguenza evita degli sprechi e di conseguenza offre un pratico risparmio. Facciamo un passo oltre perché se chiaramente vengono forniti questi dati è possibile ridurre, ad esempio, anche i costi in inventario e di magazzino e ciò comporta, cosa? Un ulteriore beneficio economico. Con tutte queste informazioni, il marketing, le spese di marketing, che non sono mai poche, diventa pressoché inutile. Perché se c'è una piattaforma di vendita che ti dice cosa, come, quanto produrre, quando, praticamente non serve fare nessun tipo di azione pubblicitaria o di ricerca per spingere la vendita di un determinato prodotto. Togliere o comunque abbassare le spese di marketing, come accennavo poco fa, significa risparmiare veramente tanto. Infine, che è praticamente la cosa che molte avranno pensato fin da subito, temo metti in contatto il produttore, no? Io produco prodotti con l'acquirente finale. Infatti i prodotti possono essere spediti direttamente dalle fabbriche, evitando gli intermediari e tagliando anche i costi di logistica. Buona parte dei costi dei prodotti è fatto da tutto quello che vi ho detto e dalla lunghezza, chiaramente, della filiera, a cui poi si aggiungono le tasse, si aggiungono i trasporti e si aggiunge tutto il resto. Temo in pratica vi permette di acquistare direttamente dei produttori, che già di per sé questo è chiaramente un bel vantaggio, perché comunque, ecco, non ci sono poi anche altre aziende che devono ricaricarci sopra e diventa ancora più vantaggioso perché i produttori stessi possono ottimizzare la loro produzione con tutte chiaramente le informazioni di cui vi ho parlato. Per questo motivo i prezzi diventano praticamente irrisordi. No, non lo è. O meglio, l'app non lo è, o sembra non esserlo. Varie analisi del codice dell'applicazione, proprio negli ultimi tempi prima di registrare questo video, hanno mostrato come l'app di Temo abbia accesso e richiede accesso a tante 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 funzioni dello smartphone che praticamente poi gli permettono di tracciare ogni cosa che fate. C'è addirittura il permesso di poter fare degli screenshot, di geolocalizzarti e tanto altro. Quindi da questo punto di vista Temo è pessimo, l'applicazione di Temo quantomeno è pessima perché tutti questi dati li prende poi in via in Cina. Ecco, ora bisogna capire però se è o non è un problema. Se siete super preoccupati per la vostra privacy, allora il miglior consiglio che io possa darvi in questo momento non è di non usare Temo, ma di usarlo tramite il sito web e non tramite l'applicazione. Se invece non ve ne frega niente, usate l'applicazione, vi dico c'è niente da nascondere, non me ne frega niente. L'ho usato anche con l'applicazione senza problemi. Diciamo che non dovrebbero succedervi cose brutte, però l'app di Temo per propinarvi tutte quelle offerte continuamente, ogni volta che le aprite, lo fa analizzando in maniera costante quello che fate. Quindi, insomma, ora lo sapete. Sì, perché no? I prodotti alla fine dei conti sono a basso costo, quindi come neanche il rischio dell'investimento di prendere una schifezza è minimo e poi comunque vi rimborsano se non siete contenti. Cioè, non ci sono prodotti che costano molto, quindi anche dal punto di vista dell'affidabilità, della qualità, del supporto post vendita, tra cui la garanzia, hanno un'importanza, come dire, essenziale. Certo, il mio unico consiglio, il vero, che posso darvi è prendere magari qualche prodotto economico simpatico, non cose complicate. Anzi, vi consiglio ogni tanto di dare un'occhiata se un prodotto che magari in questo momento state acquistando su Amazon, un piccolo accessorio per qualcosa, c'è anche su Temo. Insomma, a me è capitato di trovare dei prodotti su Temo, come ad esempio degli accessori per gli orologi, un cinturino, robe economiche di questo genere, identici, ma perfettamente identici a quelli venduti su Amazon, però a una frazione del prezzo. Certo, non mi sono arrivati al giorno dopo come su Amazon, mi sono arrivati dopo dieci giorni, ma chi se ne frega, quindi io una chance gliela darei. Grazie per avermi seguiti in questo video, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, commentiamo qui sotto, lo sapete tutto, noi ci vediamo in un altro video, ciao!